Ancora una grande giornata per l'Olimpia Athletic Team di Andrea Boroni e d'Antonella Saiani. Dopo le recenti affermazioni ai campionati italiani di Ancona, nuova messe di medaglia al campionato italiano paralimpico sulla distanza dei 10.000 metri, svoltosi in occasione della Bresciart Marathon di domenica scorsa. La società di Tavernone ha conquistato con i suoi quattro atleti presenti ben quattro medaglie, di cui tre ori ed un argento. Nicola Rocca, capitano della squadra, si è allorato campione italiano per la sesta volta in carriera, mentre Giovanni Pili d'Ottavio è salito per la prima volta sul gradino più alto del podio. Ancora una grande prestazione per Tony Milano, che è riuscito ad abbinare i successi ottenuti nella velocità in carrozzina, a quello sul mezzofondo. Infine, ottimo risultato anche per Missè Ayuras, che all'esordio assoluto sulla distanza ha conseguito una brillante secondo posto.